Buonasera, nelle prossime ore le piogge andranno via via diminuendo al sud ma avremo ancora che fare con dei temporali sulla bassa calabria sulla sicilia e localmente sulla sardegna domani sarà una giornata di tempo stabile soleggiato quasi dappertutto mentre avremo ancora residue piogge tra la bassa calabria e sulla sicilia orientale le temperature di giorno saranno gradevoli e infatti come vedete in molte zone andremo oltre i 20 gradi mercoledì arriverà la perturbazione numero 4 di questo mese che porterà molte piogge su gran parte d'italia e temporali anche forti al nord